Nel 1992 esordisce giovanissimo nel cinema con i film C'hai rotto papà di Castellano Pipolo. Uscito l'anno dopo, E io speriamo che me la cavo di Lina Wirtmuller. Diventa famoso interpretando il ruolo di spillo nelle due stagioni della miniserie TV Amico Mio. 1993-1998. Con Massimo D'Apporto, con cui torna a lavorare nelle due stagioni di Casa Famiglia, 2001 e 2003. In quest'ultimo anno interpreta anche il ruolo di Pino, un giovane barista, nella serie TV Il Bello delle donne 3. Nel 2008 recita a teatro con lo spettacolo Gomorra, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano. Nel 2008, nel 2010 e nel 2011 prende parte alle tre stagioni della serie TV Tutti pazzi per amore, dove interpreta Gennaro Capone, uno dei pallanuotisti allenati da Paolo, Emilio Solfrizzi.